Estra distribuisce 16 milioni di euro, 0,07 centesimi per azione, ai territori e alle società che ritengono il suo capitale sociale, con Siag Prato, Coingassarezzo, Intesa Siena, Viva Energy Ancoma. Nuova stazione per i veicoli elettrici con ricarica gratuita per 15 mesi installata da Estra nel comune aretino di Capolona. Estra ha già installato 25 impianti in Toscana, 5 in provincia di Arezzo. Centria, la società di distribuzione di Estra e Avis insieme per la vita. È infatti la prima volta in Toscana che un'impresa promuove direttamente la donazione di sangue fra i propri dipendenti. Un aiuto contro il caro energia. L'offerta consente di pagare il gas ogni mese con una rata sempre uguale e un conguaglio al dodicesimo mese di fornitura. In questo modo si pianificano le spese per il gas, evitando di concentrarle nei mesi invernali.